e non fa un culo raga venite ma non è l'orizzontale come prima l'orizzontale non vediamo eccola ma l'orizzontale leggiamo da 3 raga mandateli preferire ciao celly basta mia mamma mi scrive troppo niente niente allora mamma metti in orizzontale e leggo da mio telefono eh ma è brutto in orizzontale è fastidiosissimo guardarlo in orizzontale oh ma Cristian entra in tutte le nostre dirette basta eh stai online con mia ma come è appena entrato Cristian esce dalla diretta ma tipo vieni qua vieni qua che gli devo fare delle domande allora si ma se tipo Cristian non ascolta quello che fai tu cosa fai? cioè quello che gli dici tu tanto non mi ascolta mai non mi ascolta mai perché? che bella persona che sei no è vero cioè tipo non glielo devo obbligare glielo chiedo poi con calma magari se decida di sì ok ma glielo devo obbligare mia mamma mi ha scritto quando verrai vai in un negozio Apple un qualsiasi cosa e chiedi come si fa questi cazzi ma perché scusami che fa? perché non possono vedere le tue storie con i tuoi parenti? ma che ne so ma bloccala su Facebook così vede che tu non gli esci più ragazzi fateci le domande allora oddio no non ci sfidiamo però ce li fermo piacere Zaccaria ciao Zaccaria ciao Greta ciao ciao Carbotta mi chiamavo mi becca per le zonzare ma non ci sono le zonzare ma non ci sono le zonzare per se no mi punge non lo so cioè Martina Trinca ci ha mandato tante faccine innamorate ciao ciao come stanno andando a vacanza di Dio raga io mi sto divertendo un motto anche io è bello io no non è più scherzo domani abbiamo l'aero alle 10 loro io sono alle 4 che significa bout a bait boh è tipo una donazione che arriva perché a me non abbiamo infatti a me mi fa acquista un badge per sostenere Prisida grazie ragazzi quanti badge così mi fate diventare piccani oh li condividiamo il nostro business oh il nostro business ragazzi dobbiamo andare a fatturare quindi cioè noi tra mezz'oretta chiudiamo questa diretta perché dobbiamo andare a fatturare ma possiamo dirlo che business certo adesso però è brutto lo racconteremo tipo tra un anno tra un anno si dai ma pure tra un tra i mesi quando torniamo quando torniamo dai dopo la fattura c'è la storia infinita in tv davvero lo sapete che io ho fatto il videoclip per i pinguini sì sì no non lo sapevate eh io no conoscevi i pinguini fatti c'è un film io ho fatto il videoclip per loro te lo giuro la storia infinita volete vederlo lo volete vedere in diretta amo Matt Youtube amo Tivana no perché? la musica è la musica no il primo pezzo tanto parlo e basta poi no comunque raga intanto fate dei preferiresti che vi leggiamo ma quanto tempo fa è? se un giorno diventasse migliorare come si fa a fare cos'è che vuole no? non lo so come si fa a fare ah come si fa a togliere c'è facebook legato non penso sia quello ma come si chiama? dammi no dimmi come si chiama la storia infinita potete dire testa 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 ma quanto tempo fa è? un anno fa 12 milioni di visualizzazioni abbiamo sbancato cosa no? andiamo raga guardate come ho recitato ora voglio far vedere il tuo ma è lei? sono io ma sono Dustin si ma sono tanto tanto dispiaciuto sono stato molto occupato a salvare il mondo dai russi e dai mostri ma certo che sia ma certo che sia ma certo che sia ma è il prima possibile vuoi farti perdonare subito? ma deve cantare la canzone vuoi sentirla? si esatto basta basta che mi banano cosa cosa ne pensate? carino bello bello si 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 mannetto ah voilà ma la mia allora comunque ci hanno scritto comunque siete un quintetto femminile davvero straordinario siete molto belle tutte quante dobbiamo fare non siamo un quintetto perfetto perché? è vero è vero facciamo il live allora non siamo un quintetto perfetto perché io sono cieca e loro no che cazzo significa? non sono cieca si io sono cieca sono ciechissima non vedi? meno 5 c'ho perché non c'è gli occhiali? cioè in teoria per con le lenti comunque non siamo un quintetto perfetto perché io sono fidanzata e loro no non siamo un quintetto perfetto perché io sono sclerata e loro no non siamo un quintetto perfetto perché io sono intelligente e loro no grazie non siamo un quintetto non siamo un quintetto perfetto perché io sono simpatica e loro no. Non siamo un quintetto perfetto perché io sono del sud e loro del nord. Anche tu ne puoi dire una cosa. Non siamo un quintetto perfetto perché io sono un quintetto perfetto perché non siamo un quintetto perfetto perché non siamo un quintetto perfetto perché io non li fanno solo no. Non siamo un quintetto perfetto perché è no perché siamo troppe ragazzi qualcosa che viene tutto in comune. No, non siamo un quintetto perfetto perché loro hanno una cosa che io non ho. Non siamo un quintetto perfetto perché loro hanno avuto tutte un ex sui social e io no. No, manco io. Sì, tu sì. Vabbè, ho fidanzato. Vabbè, ho fidanzato. Tu no? Ah no, è vero. Io vabbè, è buciard. Frequentazione. Non siamo un quintetto perfetto perché io sono il napoletano e loro no. Non siamo un quintetto perfetto perché io ho le unghie verdi e loro no. Perché tu non hai i tatuaggi. È vero, non siamo un quintetto perfetto perché loro hanno i tatuaggi e io no. Io ho appena inaugurato, raga. Non siamo un quintetto perfetto perché io ho il piercing all'ombelico e loro no. Tu sei l'unica senza patente. Ah no, tu sei l'unica senza patente. No, io non ce l'ho la patente. No, io non ce l'ho la patente. Non siamo... Ah no, tu non ce l'hai? No, io anche lei. No, io la tengo. Lei ce l'ha, lei ce l'ha. Eh, i due no. Non siamo un quintetto perfetto perché io non sono messata né al Tocqueville né all'Holden né da nessuna parte e loro sì. Veramente? Cioè, vieni, verrai. Non siamo un quintetto perfetto perché... Ok, c'era un'altra. Non siamo un quintetto perfetto perché io ho tipo dieci buchi alle orecchie e loro no. Io ne ho tre. Non siamo un quintetto perfetto perché io non ho i buchi alle orecchie e loro sì. Ciao Sandrino. Salutate Sandrino. Ciao Sandrino. Sei o uno? Sette. Io zero. Tu vuoi sport? Eh, tu devi dire non siamo un quintetto. Ecco, non siamo un quintetto perfetto perché io sono una sportiva seria e loro no. Io sono un quintetto perfetto perché io vado in palestra e loro fanno tinta. Io sono un quintetto perfetto perché loro non sono tinte e io sì. Tu sei tinta? Io sì. Io pure sono tinta. Ma tu non sei bionda? No. Tu sei bionda? No. Però sono tinta. C'è una castana? E ora come sei? Nera. Io pure. Vabbè. Ma facciamo preferire Non siamo il quintetto perfetto Perché A me piace sbancare Allora no Non siamo il quintetto perfetto Perché io vorrei andare a lavorare Allora no Non siamo il quintetto perfetto Perché io la sera preferisco dormire e allora uscire Non siamo il quintetto perfetto Perché Celeste alle ciglia noi no Facciamo preferire Basta non abbiamo un cazzo di chiedere Facciamo preferire Aspettate Non siamo il quintetto perfetto perché io spendo 65 euro di piedi burro O scena e loro no E io vabbè io 60 Per le mali Non mi fa pensare Possete ragazzi Anche io No Che numero avete raga Non siamo il quintetto per 38 38 Non siamo il quintetto perfetto perché al mio ce la regula Cocco allora no Ah io che mali gambe Basta meglio preferiresti Basta non abbiamo più niente Preferiresti pizza o pasta? Pasta Pizza Pasta Pasta Preferiresti Siete in hotel Ora si Giochiamo a uno raga In live No Preferiresti Che gusto è la puff? Chiedono Che cazzo era? Buo è questo raga Beh non è chiaro Sa tipo da zucchero filato Preferiresti fare after Per due sere consecutive Oppure dormire per due sere consecutive Dormire per due sere consecutive Dormire Dormire Preveresti stare con uno conosciuto Uno sconosciuto 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 Ho proprio dimettito uno sconosciuto Fai diventare conosciuto Eh? Che differenza va? No ho detto Voi è indifferente Cioè no A livello Preferisci barca o spiaggia? Sconosciuto forse Sì sconosciuto Cosa? Io barca Barca o spiaggia? Barca Spiaggia Barca Io spiaggia sincero Preveri da tatuaggio o piercing? Tatuaggio Piercing Tatuaggio Piercing Anche se più tagliate Io ho tatuaggio e due piercing Preferite TikTok o Instagram? Instagram 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 Perché è più aperto come social Puoi fare più cose A parte poi TikTok Mi metti anche su Instagram Cioè Se anche su Instagram Sto fai TikTok Ricca ma triste Felice ma povera Ricca ma triste Anche io Felice ma povera Felice ma povera Felice ma povera Non può cagare Preferiresti vivere in una villa che puzza ed è sempre sporca O in una baita ma sempre pulita Baita ma sempre pulita Baita è bellissima Bellissima Baita è sempre pulita Chi ha più muscoli tra di voi? Io Questa sporca Io Mare o piscina? Io basta Mare Io sono andata a casa di questa domenica In realtà dipende La piscina con l'acqua salata E se tu aprivi gli occhi sott'acqua Anche se era salata l'acqua Non ti bruciava No A me piace Io preferisco la piscina Ma Tipo quella con le piastrelle Non mi piace Perché c'è tipo la merda in me Cioè la voglio tipo super pulita Limpida Vabbè basta Troppo discorso per la piscina Mare o montagna? Mare Ma montagna? Qual è? L'acqua attraverso Ragazzi con i tatuaggi e senza Con 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 Il mio telefono raga è là No Con però è indifferente Se ci diamo Con Love from India Hi Bri Spiegaci come si dice In indiano Ciao Merhaba India È un po' culturata sta ragazza Ma che fanno linguistico? No La vita mi ha insegnato Salato o dolce? Dolce Salato 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 Non siamo il quintetto perfetto perché io amo il dolce e loro no Non siamo il quintetto perfetto perché mi piaceva la montagna e loro no Vero Acqua frizzante naturale? Naturale Uguale Secondo voi chi ha la lingua più lunga? Tu Tu C'è una bistecca America o Spagna? America America Spagna Spagna Anche perché in America ho delle difficoltà Cabelli lunghi o corti? Lunghi Lunghissimi Corti Medi Ma hai messo una corte Ma su maschi o miei? No Oh raga venite qua Guardate tante Ah Eh No No Ciao Ciao Micolos Ho ucciso Brisida Unghie lunghe o corte? Lunghe Lunghe Medie Medie Così Brasile o Portogallo? Brasile Portogallo Portogallo è molto più sicuro Capelli biondi o scuri? Scuri Scuri Sui ragazzi Sui ragazzi Sui ragazzi Sulle ragazze Mori Indifferente Sui ragazzi Ragazzi Indifferente Ragazze scuri Ragazzo biondo Amicizia o amore? Amicizia Amicizia Detto ieri tra l'altro Francia o Inghilterra? Francia Francia Non lo so Ma è una frega Un cazzo Ok Vestito o gonna? Vestito 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 Italia Albania Vuoi entrambe Devi scendere? No Non si può Collane o orecchini? Orecchini Collane E' stata il limone o pesca? Limone Limone Grande fratella Vale tu? Pesca Ok Amore Leggi sta domanda Secondo te avrei scelto uno o due? Uno Uno Si Avrei scelto uno Era chiaro Però vediamo C'è straga Se hai capito Vabbè Tradire o essere tradite? Essere tradite Essere tradite Essere tradite Tradire o una merda Tradire poi c'è il senso di colpa Stiamo Poi quella che tipo di persona sei Cioè Braccialetti o anelli? Anelli Braccialetti Bracciali Calcio o basket? Basket Calcio Amore o soldi? Amore No soldi No soldi 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 Sì esatto Totale I soldi posso pagarmi un fidanzato Sono tutti uguali Esatto Tipi stronzi dolci 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 Amare o essere amata? Quando ami è bellissimo Amare raga Però a me piace un sacco quando sei amata Che di essere amata Tuta o jeans? Tuta Tuta Jeans Tuta raga Io jeans io odio Non li metto male Tipi riccio o liscio? Cosa? Riccio o liscio? Riccio Macchina o moto? Moto Macchina Molto più bello Io ho paura Io amo le macchine Io ho paura di andare in moto No io no Non c'ho paura Però è scomoda Voglio Mille macchine Buo raga io ho fatto un incidente Quindi io no Io mi hanno traumatizzata Quindi no Sono macchina Bombi a passi Vai No Vai Bombi a passi Vai Partite Let's go Vai Lo fai anche tu Però vieni qua Ma mi viene mal di schiena a morire raga E ora dai miei brufoli Prenditi i cuscini Ma se metti un petadine qui Si levano i brufoli? No Io provo Vieni qua Provavano Valerio Lazzari Cosa vorrebbe dire Esattamente Valerio Lazzari Ok 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 Comunque il direttore Che tu sei Giovanni Bonaccini Raga Io bombo Passo Io bombo Passo Io bombo Ciao Giovanni Lo so Di mio figlio Dopo la live Tutti i ragazzi Commenti Contattano Siria Eh Dopo la live Tutti i vetti contatta I bambini A me piacciono i bambini Che ridere No Mi piacciono i bambini Hai capito tu? No Dimma 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 Sper Mette muto No Grimbal Passo 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 Che stupida Raga Veramente Fate Cioè Non ce la facevo Non ce la facevo più Non ce la facevo più Cioè Io sono provato A stare A stare Vabbè Dai andiamo avanti Fammi mettere un filtro Che mi ricordo Andiamo avanti Vediamo ancora Quella faccina Ti mostro Mi stego Che non si vede Quando arriviamo E No Tendo questo No andiamo avanti No andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Lele Lele Jody Passo 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 Ti bambi Lele? Sì Per me è carino A me non piace Davide la parà Passo Passo A me Deo preziosi Bambi o passi Passo Cosa cazzo c'è adesso Non ho detto Stai male Ziblito Ziblito Passo Passo Raga Stiamo facendo dei danni Raga Venite qua Aia Che cosa ti è dato Raga dai Ma stanno finito con i nomi Raga Scusate Facete dei nomi Fate sti cazzo Però non sempre i soliti Sì ma andate un po' più dietro Faccio io il nome No 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 Sei sicurata No Vabbè Vez Passo 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 Se neanche chi sia Mura Passo Passo Cioè non perdetelo Poi se volete il video Però Cristiana Roy Beh è fidanzato Beh è di bellezza Allora è un bellissimo ragazzo per me però Rondo Passo Passo Buoh per me è carino Si Si Sì 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 Spera Secondo me Passo Passo Secondo me Secondo me Ci fanno i nomi E tipo Quanti sciottini Per Anche Anche Troppo lunghi Quattro bottiglie Sette sciottini Io Venti Dieci sciottini No scherzo Sono sopri Quelli di sciottini Non ci credo Ho la rimozzei Raga Boh Una Una Crane Intera Io non voglio giocare così Però Ma son bianche Wow Vediamole via No Luque Zero Luque Io Non me lo farei mai Anche Preca marcia No Dibala Guarda No Neanche uno Cioè Sono qui Ehi Spera Già fatto BB gang Anche Preca marcia Raga Ma c'è un bombio Passi Basta No vedi Bombio e passi È più facile Allora facciamo Bombio e passi Però se poi Bombi Quanti sciottini Ci sa Bravo San Giovanni Passo Passo Mi piace Te lo faresti Con zero sciottini No zero Intanto passo No io Mi piace Gianluca Molin Passo Chiesa Passo Passo Bombo Civa Passo 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 Diego Passo Lo voglio troppo bene Da Supreme Passo Non l'ho mai visto in faccia Christian Cutro Lo conoscete voi? Cazzo è no Christian Cutro Sì ho capito Sì ho capito quello Quei ricci Sì Viva e Stardust Non so che sia Blanco Blanco Non so perché Le persone Piacere No allora Secondo me è il suo fascino Quindi Bianchino Non so che è il mio frattone Bianchino Super passo 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 Diego L'Azzaro Ti ho fatto Ultimo Ultimo Passo Passo Giulia ciao Ciao Giulia Ciao Giulia Ciao Luca già fatto Peppicane Passo 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 Che è? Spingo il faro qua Bello figo Passo Passo Don Don Passo 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 io Passo Non lo so Non lo so Dovrei prenderlo dal vivo Non l'ho mai visto Ciao Don Ciao Don Noi inseriamo Quelli che guardassero Sì Chi è Matteo? Non lo so Shiva Yuri No sì L'ho mangiato un po' Passo Però le tengo Soprattutto per il viaggio Passo Il bro Ma che cazzo è il bro? Irama Irama Passo 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 Basta Yuri Dai però De no Wimp Proprio Sì perché Di ripetono Sembra gli stessi Se non rispondiamo Poi non rispondiamo Basta Periodo Berlini Passo 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 Che gnocchi Grazie lo sappiamo Non ci ho ancora visto Dal vivo Raff Ma chi cazzo è Raff Per comi Io o no? Io non me lo ricordo Bombo Subero Non l'ha mai visto la faccia Ho provato ad andare a vedere su Instagram Ma non c'era la sua proprio foto di faccia bene Quindi non l'ho mai vista di faccia Ma chi è? Ah non vuoi fare Sempre più giù E Sempre più giù E Ancuno si chiama Isi Sap Zero Però Supero Ma sei sicura che non si chiama Supero? Ah sì Supero No 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 Isi Sap Zero Rove È un bel ragazzo Solo che è troppo amaranza Quindi passo Se fosse un po' più normale Tedua io me lo bombò fino alla fine dei miei giorni È il mio amore platonico Tedua ragazzi Tedua se mai vedrai questa clip Tom Holland Passo Mi piace Passo Celeste La bombiamo tutte Ma in realtà Cioè voi non sapete cosa facciamo noi qui Ah 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 E con questo Chiudiamo questa live Basta Basta